Sono un personaggio, certe volte molto simpatico, mentre altre volte sa essere anche triste dal fatto che lui viene abbandonato in un certo senso da Nino, cioè suo zio, per stare con Johnny. Senti, così piccolo come ti hanno scoperto dal cinema? È una domanda che penso si faranno tutti. Ok, allora io... Quando sono nato? Sì, subito. Io mi pare a sette anni mi sono iscritto in un'agenzia di film e mi hanno fatto fare inizialmente, dopo fare dei provini, delle comparse in dei film e poi è arrivato... E' arrivato con Giovanni Mergilio che mi ha fatto fare i racconti della domenica e in cui sono protagonista. Ah, Giovanni Mergilio, ma non dico. Tutto a posto, poi... Sì, sì, poi... Sì, certo, guardate che stiamo a fare una cosa, io li vedo gli anni, insomma, comunque... E poi mi ha preso Beppe Gerardo per fare scienza d'auguri, un cavolavoro. Ti ricordo... Ti ricordi... Ti ricordi... Ti ricordi... Ti ricordi... Non vorrei fosse il più bello questo del film, tu stai facendo questa cosa qua... Ma non ti male! Senti, ti ricordi il nostro incontro, più o meno? Ti ricordi? Sì, non mi ricordo, però dove eravamo. Quando io eravamo a Nenoto. Ah, no. Poi rimasti con mamma. E con mio papà. Sì. Siamo entrati, però ci abbiamo fatto e poi tutti si è accacciato dalla finestra e mi hai detto, ci rivediamo presto. Un'unica particolare del mio incontro. Un'unica particolare, la cosa più romantica del nostro incontro. Mi ha detto, lui aveva i capelli rasati, schiocchioni così, lo vedrete nel film. E poi se ne andò e mi lascio dentro questa sensazione di gioia. E soprattutto io vi dire il suo sguardo, il cinema. Sì, ho visto proprio il cinema. Ho visto proprio... Vedevo delle belle inquadrature, dei bei primi piani. Gli ho dedicato una cosa a lui, che proprio tutta sua, con musica, proprio all'inizio del film, vedrete un avvicinamento per la macchina da presa, tutta per lui le ho dedicate. Quando lo giravamo, io e lui vedevo veramente un cinema degli anni 50, 60, era una mia visione. E quando andò via, mi salutavo con la mamma, io veramente, ma faccia i dollini? Oh, Raffaele, poi ci vediamo. Vabbè, va bene. Grazie Raffaele. Allora, ci siamo.